Stiamo proseguendo nella fase di progettazione di tutti i lavori che interessano la città e che sono stati finanziati da un fondo strategico regionale. Parliamo di quasi 6 milioni di euro che andranno a riqualificare molti complessi monumentali di Savona come ad esempio la Torre del Brandale, il ridotto del Teatro Chiabrera, da troppi anni purtroppo non più fruibile al pubblico, la meravigliosa scultura di Renata Cuneo di Piazza Marconi meglio conosciuta come Fontana del Pesce, la Sala Rossa del Comune di Savona ma soprattutto 14 parchi urbani che verranno totalmente riqualificati con grande attenzione al verde ma soprattutto con grande attenzione all'efficientamento idrico energetico e grande attenzione ai nostri bambini e ai nostri anziani perché saranno presenti degli arredi urbani e ad esempio dei giochi fruibili anche per persone portatrici di disabilità e quindi anche un abbattimento delle barriere architettoniche. Questi sono progetti che permetteranno di cambiare il volto della città di Savona e alcuni cantieri apriranno già quest'anno e i lavori termineranno entro fine 2019.